Un'intensa giornata di lavoro è stata molto profigua perché abbiamo avuto un confronto con tutti i massimi rappresentanti delle istituzioni europee e anche mondiali, c'era il segretario generale anche dell'Ocse, c'era anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo, David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo e il nostro Commissario dell'Economia Gentiloni. Abbiamo avuto poi tanti esperti economisti, abbiamo discusso sullo stato attuale della situazione, sulle conseguenze economiche e sociali di questa pandemia e in particolare ovviamente le prospettive di crescita complessive con riferimento all'Europa e poi all'Italia. Abbiamo scelto questa villa perché innanzitutto è una sede istituzionale, come sapete dalla Presidenza del Consiglio, ma perché vogliamo richiamare l'attenzione del mondo su quello che è un valore inestimabile, un patrimonio inestimabile dell'Italia. La bellezza, vogliamo investire sulla bellezza, abbiamo condiviso le linee strategiche di intervento, modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione, maggiore inclusione sul piano sociale, territoriale e di genere. Lavoreremo a questo, abbiamo tanti progetti concreti. La settimana prossima ci confronteremo con tutte le forze politiche, sociali, culturali del Paese, le chiameremo a confrontarsi su progetti concreti. Questa settimana sarà molto intensa perché noi saremo qui in collegamento stretto con i nostri uffici che continueranno a elaborare nel dettaglio questi progetti man mano che avremo aggiornamenti. Confido che ci sarà la possibilità anche per le forze di opposizione di un confronto. C'è stato un rifiuto dell'iniziale invito, ma noi siamo sempre aperti e quindi offriremo un'ulteriore possibilità di questo confronto, semmai al termine di questa consultazione nazionale e potrà essere addirittura anche più proficuo perché avremo anche tanti suggerimenti alle forze economiche, sociali e culturali del Paese. Sono una giornata davvero che è stata molto utile ed è un confronto che promette molto bene. Noi siamo qui, lavoreremo intensamente per il Paese, ci rendiamo conto del momento storico, della grande responsabilità che abbiamo e faremo in modo di non sprecare nessun euro perché sia ovviamente per il rilancio effettivo del Paese. Un concetto è emerso chiaro oggi, non ci accontenteremo di ripristinare una normalità perché l'Italia purtroppo da vari illustri aveva un gap, era indietro nella crescita economica. Noi vogliamo quindi migliorare, non vogliamo ripristinare lo Stato anteriore, vogliamo migliorare il nostro Paese, le nostre performance, però attenzione quando parliamo di performance non guardiamo solo alla crescita economica, vogliamo coniugarla con uno sviluppo realmente sostenibile. Grazie Presidente, effettivamente non poteva iniziare meglio questa grande consultazione nazionale con una giornata di approfondito confronto con i rappresentanti vertici delle istituzioni europee, con grandi istituzioni economiche internazionali, con alcuni importanti economisti ed è emerso molto bene un forte grado di consenso sull'ambizione e gli indirizzi di questo piano per il rilancio del Paese che stiamo elaborando orientato ai grandi assi dell'innovazione, della sostenibilità, della formazione, della coesione sociale e territoriale e anche il nesso tra le misure senza precedenti che stiamo realizzando insieme agli altri Paesi europei per contenere gli effetti economici del virus, per non lasciare indietro nessuno. E la seconda fase che guarda al domani perché appunto questo grande piano per il rilancio del Paese deve puntare anche a trasformare l'Italia e accogliere le straordinarie opportunità che si apano nostro Paese anche grazie a questo grande piano di investimenti europeo che l'Italia ha contribuito a far mettere in campo con la proposta della Commissione europea. Il perno di questo piano che stiamo elaborando saranno gli investimenti, noi vogliamo portare il livello degli investimenti pubblici, degli investimenti privati al di sopra dei livelli precedenti alla grande crisi, vogliamo diventare tra i Paesi che investono di più in scuola, in ricerca, in formazione, in innovazione, vogliamo completare e rendere di eccellenza la nostra rete di infrastrutture materiali e immatoriali, vogliamo diventare leader nei pagamenti digitali, vogliamo trovare le risorse contrastando l'evasione fiscale al tempo stesso, attingendo appieno a questo grande piano per il rilancio dell'Europa che si sta mettendo in campo, come l'Italia aveva chiesto e che si fonda sulle emissioni di titoli comuni europei per finanziare spese comuni. Stiamo lavorando sugli obiettivi, sui principi, anche su alcune grandi scelte di fondo, oggi si è discusso, serve o no una fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno, come accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro e come modulare meglio il nostro sistema di ammortizzatori sociali, grandi scelte di fondo e al tempo stesso stiamo definendo una serie di missioni, di pacchetti, di riforme, di investimento che in concreto poi realizzeranno delle misure su cui stiamo lavorando e che poi convergeranno nel nostro piano di sviluppo e di rilancio del Paese. Quindi si annuncia come una giornata così intensa, una settimana ricca in cui ascolteremo le forze produttive, economiche e sociali del nostro Paese perché di fronte a una prospettiva di questa portata occorre il massimo livello di coinvolgimento delle forze vive del Paese per un grande patto per lo sviluppo e poi naturalmente definiremo questo piano e adotteremo tutte le misure necessarie a realizzarlo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Oggi è stata una giornata molto importante di confronto e di lavoro dove al centro c'è stato anche il tema della digitalizzazione e dell'innovazione del nostro Paese. È importante sottolineare che oggi siamo chiamati a una prova di responsabilità e a iniziare a spingere il nostro Paese sempre più avanti nel campo dell'innovazione e della trasformazione digitale. Siamo impegnati in molte decisioni importanti per il futuro del nostro Paese come l'infrastruttura tecnologica di connettività all'interno del nostro Paese, la banda ultralarga. La tecnologia non deve essere esclusiva, deve essere una tecnologia inclusiva che arriva in ogni parte del nostro Paese e mai come oggi ci siamo resi conto che la connettività è importantissima per riuscire a fare tutte quelle attività per la crescita dei nostri ragazzi e per la crescita professionale. Quindi molta attenzione alle infrastrutture di rete ma anche molta attenzione a altre infrastrutture come ad esempio il cloud. Sarà importante per noi come governo iniziare a dare gambe a una politica sul cloud che è una politica non solo della pubblica amministrazione ma è anche una politica di Paese, una politica europea. Importante è la gestione dei dati e l'analisi dei dati per riuscire a capire i fenomeni e per riuscire poi a monitorarli e gestire questi fenomeni. La pubblica amministrazione non è un attore di serie B nella tecnologia, è un attore che può diventare come si è detto oggi anche motore di crescita della tecnologia e dell'innovazione all'interno del Paese spingendo la domanda di innovazione, spingendo la domanda di servizi digitali in cloud in modo tale che se si spinge la domanda si fa crescere l'offerta all'interno del nostro Paese. Molta attenzione alla trasformazione digitali all'interno della pubblica amministrazione, il che non significa digitalizzare un modulo ma significa digitalizzare delle procedure, dei processi, insegnare e formare il nostro personale affinché sia in grado e capace di vedere e di fare servizi digitali che siano semplici per i nostri cittadini, che siano facili da utilizzare e che siano ovviamente all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. E infine l'innovazione del Paese, le nuove tecnologie alle quali noi dobbiamo guardare per riuscire a spingere alcuni settori tecnologici, la cyber security, l'intelligenza artificiale e la robotica. Buonasera Presidente e Ministri, diciamo oggi la giornata è stata dedicata agli interventi anche internazionali, quindi in particolare l'Europa. L'Italia ha avuto anche degli elogi per come si è mossa in questi mesi di emergenza. Ecco, da domani concretamente, intanto quando questi fondi europei pensate arriveranno? Poi se i prossimi passaggi già del Consiglio europeo la settimana prossima concretizzeranno tutte anche quelle parole che sono state dette anche oggi e quindi si concretizzerà, quindi anche Recorre Fan e tutto quanto il resto del piano europeo. E da parte del Governo a cui è stato chiesto appunto di cogliere questa occasione, quando presenterete un piano, lei ha parlato mi sembra a settembre, un piano completo a Bruxelles e nel frattempo appunto ci saranno degli interventi di immagino già prima, visto che il Paese ha urgenza di tanto. Sì, vorrei dire che è stato apprezzato innanzitutto il fatto che l'Italia ancora una volta è sulla frontiera. Sulla frontiera purtroppo lo siamo stati senza, non per nostra scelta, quando la pandemia si è scatenata nel nostro Paese, primo Paese in Europa. Però ci è stato riconosciuto di aver affrontato bene questa prova, difficilissima prova, anzi di essere stati di esempio per altri Paesi. È una delle parole più toccanti, forse che sono state pronunciate oggi da Charles Michel, ma anche tutti gli altri Presidenti rappresentanti delle istituzioni hanno avuto delle belle parole nei confronti dell'Italia e del popolo italiano. E quando Charles Michel ha detto che noi abbiamo salvato indirettamente vite in Europa, perché chiaramente con la nostra reazione, con la nostra capacità di reazione abbiamo anche offerto ad altri un esempio per poter intervenire tempestivamente alla luce di quanto avevamo operato. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari c'è un processo in corso, innanzitutto se parla del recovery fund va definito ancora. Abbiamo la prospettiva del 19, consiglio operato del 19 della prossima settimana. Non credo che sarà risolutiva, ma ci impegneremo ovviamente perché sia importante questo passaggio è comunque determinante. La prospettiva di queste somme in particolare, di queste risorse finanziarie, non è immediata anche se c'è la possibilità di avere un ponte, un front loading, come si dice nel gergo, e quindi alcune somme potranno essere anticipate già in autunno, ma il grosso del finanziamento arriverà ovviamente l'anno prossimo. Ma questo non toglie che noi siamo alla frontiera, dicevo, anche nel piano di rilancio. Il piano di rilancio è ricordato, pensavo di presentarlo a settembre, ma anche nella prospettiva di settembre sarà molto impegnativo perché significa dettagliare tutti i progetti, avere ben chiare le idee, elaborare una strategia e ovviamente alcuni di questi progetti partiranno subito, non aspetteremo certo settembre, però è importante avere un quadro strategico perché decidere dove allocare le risorse significa evidentemente avere già da subito un quadro. Ecco perché è importante la settimana prossima e sarà una settimana di confronto operativo su progetti specifici. Alcune somme e ovviamente investimenti noi li abbiamo già a disposizione, sono già ovviamente nel nostro budget, altri però dobbiamo evidentemente deciderli e poi occorre operare una redistribuzione delle risorse finanziarie. Ma se non abbiamo progetti concreti, se non abbiamo ovviamente la misura dell'impatto finanziario di questi progetti, non andiamo da nessuna parte. Ecco perché c'è grande urgenza e abbiamo ricevuto apprezzamento anche per questa urgenza di lavorare già un piano di rilancio. Presidente, io sono Sanio Bonini, Re News24, volevo chiederle, è arrivata la notizia durante questa prima giornata degli Stati Generali dell'economia di questa possibilità vaccino entro la fine dell'anno con un ruolo in prima fila del nostro Paese? L'ha annunciato Speranza, abbiamo saputo di un applauso che ha accolto questa notizia mentre eravate riuniti. Ecco, come sottolinea questo impegno anche del nostro Paese e soprattutto in un'ottica universalistica in vista del G20 dell'Italia, come dovremo usare e con quale responsabilità sulle spalle poter usare questa prospettiva da qui alla fine del 2020? Grazie. E' un ulteriore elemento che conferma che l'Italia è in prima linea, anche sul fronte della ricerca, sul fronte delle terapie, sul fronte dei vaccini. Ovviamente dobbiamo essere cauti perché non stiamo parlando di un vaccino a disposizione, però sicuramente tra le ricerche, progetti di ricerca a cui parteciperemo attivamente a questo punto perché abbiamo formalizzato anche i contratti, è uno dei più promettenti perché con l'Università di Oxford è uno dei progetti più avanzati per quanto riguarda i vaccini. L'Italia ancora una volta fa, come dire, da pilota in Europa insieme ad altri Paesi perché non solo ci siamo procacciati la possibilità di avere ingenti risorse per noi, quindi dosi destinate alla comunità italiana, ma abbiamo creato anche le premesse per fornirlo agli altri Paesi europei che non sono in questo momento direttamente coinvolti in questo progetto, in questo programma. Avremo anche ricadute per un'impresa italiana, ma non è l'unico progetto a cui partecipiamo. Noi non lasciamo nessuna ipotesi intentata. Quando si tratta di investire da ora in poi nella ricerca, di migliorare le nostre performance in questo settore, anche per quanto riguarda le terapie mediche, saremo in prima linea. Salve Presidente, Michele Sposio dell'ANSA. Per questo piano di lancio certamente immagino ci debba essere il miglior clima nella maggioranza. Negli ultimi giorni ci sono comunque state delle fibrillazioni, per esempio sulle modifiche dei decreti sicurezza. Allora volevo sapere se, diciamo, nelle prossime settimane, anche così per avere un clima più sereno all'interno della maggioranza, lei ha intenzione comunque di mettere all'ordine del giorno nell'agenda di governo questa cosa delle modifiche dei decreti sicurezza sulla base delle osservazioni fatte dal Capo dello Stato. Grazie. Di fibrillazioni con riguardo ai decreti sicurezza ho letto sui giornali. Io ero al Consiglio dei Ministri quando se ne è parlato, ci siamo semplicemente rammentati reciprocamente che nel programma di governo, e siccome adesso l'emergenza è la fase più acuta, siamo usciti dalla fase più acuta, adesso stavamo già lavorando e lavoreremo per il decreto sicurezza, ma è nei punti programmatici di governo, quindi nessuna fibrillazione. Grazie. Prego. Un'altra domanda? Sì. Sì, buonasera. Laura Cannavonius, Mediaset, Presidente. Oggi si è parlato dei grandi investimenti che arriveranno dall'Europa, però c'è anche un punto di svolta politico, sia per l'Italia che per l'Europa, cioè la sconfitta delle politiche sovraniste, passa anche dal successo che l'Europa potrà avere, portare a casa con queste riforme, naturalmente anche in Italia, e quindi c'è anche, diciamo così, un risvolto politico di questa grande lotta e ripresa dopo la crisi della pandemia. C'è consapevolezza di questo? Ovviamente immagino di sì. E poi volevo chiedere al Ministro Gualtieri se effettivamente state pensando di procedere con un ulteriore scostamento di bilancio per fare fronte alle spese che ci potranno essere prima dell'arrivo dei fondi recovery fund. 8-10 miliardi si parla di questa cifra, se lo può confermare? Dotto riguardo alla prima domanda, lei ha parlato di sconfitta di politiche sovraniste. Diciamo che se riusciremo a portare a casa questa che è la proposta della Commissione Europea sul recovery fund che prevede ingenti risorse, in particolare per l'Italia, perché è uno dei paesi più colpiti, perché questa è la logica, il paese che ha maggior bisogno del recovery fund, sarà una vittoria, non una sconfitta di qualcuno, sarà la vittoria di una convinzione che l'Italia ha avuto sin dall'inizio e che ha condiviso con alcuni paesi e poi man mano sta cercando di condividere con tutti i paesi. Anzi, proprio per scacciare via le polemiche, io rivolgo ai partiti di opposizione che ieri non sono venuti qui perché hanno ritenuto questa sede non adeguata, un appello, siccome c'è ancora da lavorare a questo progetto, loro che possono dare una mano, perché noi abbiamo ancora portato a casa un risultato. Io l'ho detto, ci sarà un passaggio al Consiglio Europeo ancora, dobbiamo fare dei passaggi al Consiglio Europeo e avete anche colto voi, c'è un dibattito in alcuni paesi, ci sono dei governi di coalizione dove ci sono dei partiti molto a destra che contestano ovviamente queste soluzioni, alcuni paesi di vicegrada anche sono usciti pubblicamente e contestano queste soluzioni. Quindi siccome alcuni esponenti, alcune forze dell'opposizione sono molto legate a queste forze politiche, a questi governi di vicegrada, io chiedo loro di lavorare per darci una mano perché ovviamente dobbiamo ancora completare questo processo. Quindi nell'interesse nazionale, nell'interesse della comunità italiana, vi prego dateci una mano e io vi riconoscerò pubblicamente l'aiuto che ci darete intervenendo anche sui partiti con cui avete dei legami, con esponenti politici di altri paesi o anche addirittura di governi che in questo momento stanno cercando di contrastare questa risposta forte, coerente e coesa che le istituzioni europee, in particolare le commissioni, sta offrendo. C'era la seconda risposta del Ministro, la seconda domanda. Vorrei aggiungere prima di rispondere, per non evitare la domanda scomoda che è immancabile naturalmente, che questa crisi penso sul piano politico sta insegnando a tutti, ma non solo qui in Italia, delle cose molto chiare, che insieme in Europa siamo più forti, che politiche del passato devono essere superate e l'Europa sta insieme scegliendo di non rispondere come ha fatto all'altra crisi, ma invece di politiche di austerità, delle politiche di sviluppo, di crescita, di coesione sociale, che il welfare pubblico universale è una risorsa fondamentale e che i paesi che hanno un forte sistema sanitario pubblico sono più attrezzati a rispondere a questa crisi. Quindi vorrei che la scienza è importante, quindi credo alcune delle ragioni di fondo, anche tra le quali è nata questa maggioranza di governo, escono confermate e rafforzate da questa grande crisi globale. Quanto riguarda la domanda, noi non partiamo dai numeri, noi partiamo dagli obiettivi. Noi abbiamo sempre detto che garantiremo il sostegno a tutti quelli che ne hanno bisogno, che daremo la cassa integrazione a tutti i lavoratori che ne hanno bisogno, che se i comuni avranno delle entrate fiscali inferiori a quelle che già li abbiamo sostenuto, daremo le risorse necessarie. Quindi è del tutto evidente che noi faremo tutti gli interventi che saranno necessari a garantire gli obiettivi che ci siamo dati. Noi partiamo da questo, non dai numeri. I numeri sono la conseguenza delle cose che faremo, della valutazione delle risorse disponibili, di quello che occorre fare e come sempre abbiamo fatto e ci è stato riconosciuto peraltro a tutti che le misure varate dal governo italiano sono tra le più incisive, anche quantitativamente, di quelle realizzate a livello europeo e internazionale. Come sempre abbiamo fatto fin dall'inizio, ci diamo degli obiettivi e valuteremo, monitoreremo la situazione e faremo al momento necessario gli interventi che saranno necessari a garantire il raggiungimento di quegli obiettivi. Massimo Leoni, Sky TG24, Presidente, due cose che hanno colpito particolarmente nell'intervento del Governatore della Banca d'Italia. Una è forse la cosa più politica che è uscita da questo contesto, cioè l'invito a raccogliere il consenso più ampio possibile rispetto al piano di rinascita del Paese che state lavorando. Ha già in parte risposto, però una cosa è lasciare alle opposizioni un'iniziativa oppure una disponibilità, una cosa che diventi un obiettivo politico, questo è il massimo consenso, lo ritiene tale. L'altra cosa che viene da visco è l'invito a mettere mano in maniera seria a una riforma del sistema fiscale. Tra l'altro questa riflessione è doppiata immediatamente dal suo collega di Governo Di Maio che ha invitato anche di nuovo, non è la prima volta, a aprire questo dossier. Mi chiedo se le risorse europee nell'animo del Governo possano servire anche a questo obiettivo oppure è totalmente da escludere? Guardi, per quanto riguarda il coinvolgimento delle opposizioni in questo progetto è d'obbligo. Io credo di essere stato molto chiaro e quando abbiamo iniziato da subito a lavorare a questo piano di rinancio ho chiarito che le risorse finanziarie che arriveranno dall'Europa non possono essere intese. Ho detto come un tesoretto a disposizione del Governo in carica, che il Governo in carica utilizza liberamente. L'ho detto anche prima, non ci possiamo permettere di sprecare un euro perché abbiamo una grande responsabilità dopo quello che abbiamo vissuto, ricordo ovviamente anche le tragedie che sono dietro la pandemia e che non potremmo mai dimenticare, quindi abbiamo il dovere di lavorare con la massima condivisione. Ma il fatto, voglio dire, che nella giornata e quindi l'attenzione distinta che volevamo riservare alle forze di opposizione, ai leader dell'opposizione, è dato al fatto che li avevano invitati ieri, prima di questa giornata diciamo così internazionale. Però ripeto, continueremo caparbiamente a coinvolgerli e confidiamo di farlo al termine di questa prossima settimana, laddove poi avremo anche un riscontro, suggerimenti, idee raccolte dalle forze politiche, sociali e culturali che spileranno con noi e si confronteranno sui progetti concreti. L'altra domanda era su? La riforma fiscale. La riforma fiscale è assolutamente, la troverete adesso tra gli obiettivi che abbiamo, perché l'ho anche annunciato e condividiamo tutti in maggioranza, abbiamo un fisco che purtroppo è inefficiente, non è eco, quindi sicuramente potremo anche per una riforma del genere che comporta, immaginate anche sul piano della digitalizzazione, richiede investimenti, potremo utilizzare anche risorse europee in questa direzione. Buonasera Presidente, buonasera Ministri, Max Brod da Corà. Oggi il governatore Visco ha lanciato un messaggio chiaro e dice che ciò che più ci differenzia dall'economia avanzata è l'evasione fiscale. Nel piano Colau c'è la volontà di disclosure sul contante che alcuni membri del governo non hanno esitato a chiamare condono. Devo capire se le due strade, il messaggio di Visco o la volontà di disclosure sono alternative e se questa volontà di disclosure sul contante è ancora sul tavolo, è ancora in discussione oppure si è presa una decisione su questo. Grazie. Sul tavolo più che mai, poi sentiamo anche il Ministro Gualtieri, sul tavolo più che mai la lotta all'economia sommersa. Quindi il contrasto e l'elevazione fiscale è un'assoluta priorità. Noi dobbiamo recuperare quei miliardi che ci vengono sottratti indebitamente, vengono sottratti dalla comunità nazionale perché è quello che ci consentirà di far pagare a tutti meno, non in modo velletario ma in modo credibile e sostenibile nel tempo. Anche attraverso la volontà di... Per quanto riguarda quello è un progetto particolare che andremo a discutere nell'ambito di una... diciamo, di vari altri strumenti che complessivamente metteremo in campo. Però le vorrei ricordare che anche lo stesso piano cashless noi l'abbiamo già, e varie misure di contrasto, elevazione, di contrasto dell'economia sommersa le abbiamo già introdotte nella legge di bilancio, quindi sono già programmate, abbiamo ritardato l'entrata in vigore del piano complessivo semplicemente perché siamo scontrati con la fase più acuta dell'economia, quindi sono già programmate. Quella in particolare la discuteremo, le preannuncio, quella che può essere la mia valutazione, e cioè che è chiaro che la disclosure di questo tipo pone dei problemi per quanto riguarda gli eventuali reati che sono dietro queste operazioni. Ecco, quello è un tema molto delicato perché una cosa è dire ovviamente recuperare anche delle somme e risorse, consentire il recupero di somme e risorse che in questo momento non sono dichiarate, altre cose ovviamente come dire sanare comportamenti invece che confluono dei reati. Su questo, questo governo è molto attento a operare queste distinzioni. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, senz'altro. Questo governo ha detto che non farà e quindi non farà condoni, noi siamo contro i condoni fiscali. La volontaria disclosure tecnicamente è una cosa diversa da un condono, se vuole approfondire la differenza tra questi due strumenti, presenta tuttavia dei profili di criticità, per questo analizzeremo con grata attenzione la proposta presentata dal rapporto del gruppo Colau, ma non abbiamo un orientamento da questo punto di vista. È chiaro che uno dei pilastri fondamentali dell'azione del governo è il contrasto all'evasione fiscale che perseguiremo anche con un forte sviluppo impulso ulteriore, abbiamo già fatto parecchio da questo punto di vista, alla diffusione dei pagamenti digitali. Buonasera Presidente, buonasera Ministri, Ciriaco di Repubblica. Presidente, sono giorni difficili per la famiglia Reggeni che attende da anni verità e giustizia, anche il PD ha lasciato trapelare nelle ultime ore la richiesta di una sua presa di posizione forte, netta rispetto all'Egitto, finora è trapelata in realtà soltanto la volontà di chiudere la commessa militare e volevo chiedere se aveva voglia di approfittare anche di questo contesto così solenne per dire una parola in più o definitiva sul tema. Lei sa che ho già dichiarato che non appena adesso sarà possibile, nei prossimi giorni sarò davanti alla Commissione Reggeni a riferire, sono stato invitato a riferire, quindi permettetemi qualche cautela solo per questo, una doverosa cautela. Per quanto riguarda la famiglia Reggeni qualsiasi opinione della famiglia Reggeni merita rispetto. Meritano rispetto anche gli sforzi del governo italiano che sono stati sempre incessanti per chiedere e ottenere in qualsiasi occasione possibile, e parlo anche per me e per i miei ministri, l'accertamento della verità nei confronti dell'Egitto. Grazie. 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 Grazie.